In merito alla questione sanità privata, alcune organizzazioni sindacali hanno travalicato il normale confronto scadendo in un atteggiamento irrispettoso degli uomini e delle istituzioni. È quanto dichiara il capogruppo dell'Udc Francesco Mollica. L'emendamento proposto da Galante e da me sostenuto continua Mollica, mira ad autorizzare l'apertura di strutture sanitarie private non a carico del servizio sanitario regionale, ma a carico esclusivo del cittadino che ne chiede la prestazione. L'eventuale fruizione di tali strutture da parte di chi ne ha la possibilità economica libererebbe risorse che, invece, la Regione avrebbe dovuto comunque investire nel caso in cui l'offerta sanitaria fosse solo di natura convenzionata. La convivenza sul territorio regionale di strutture pubbliche private e convenzionate, conclude Mollica, mira ad elevare la qualità dell'offerta sanitaria, tanto da poter attrarre utenza anche extra-regionale. Grazie a tutti.